Mercoledì 14 novembre sciopero generale della CGL in concomitanza con la giornata di mobilitazione europea indetta dalla CES, la Confederazione Europea dei Sindacati, per il lavoro, per la solidarietà e contro l'austerità. A Reggio Emilia si terrà una manifestazione provinciale con concentramento in Viale Montegrappa a partire dalle ore 9. La mobilitazione si concluderà in piazza Prampolini con il comizio del segretario regionale della CGL Vincenzo Colla. È la prima volta che a livello europeo si decide una giornata di lotta che non sia utilizzata semplicemente per fare astensioni del lavoro simboliche. È la prima volta che si organizzano in diversi paesi, nella stessa giornata, momenti di iniziative che coinvolgono l'intera giornata di sciopero o metà giornata con manifestazioni in tutto il paese. Così succede anche in Italia. Purtroppo in Italia solo la CGL ha risposto all'appello della CES, il sindacato europeo. Purtroppo non ci sono state le condizioni per l'iniziativa unitaria. La CES ha deciso questo a livello europeo perché la situazione è ormai gravissima. È gravissima, coinvolge tutto il continente. Ed è chiaro quindi che il sindacato europeo si pone questo problema di fermare queste politiche di austerità, questa politica economica che non solo è ingiusta perché fa pagare il conto della crisi a chi ha meno possibilità di pagare. E quindi ai lavoratori, e quindi ai pensionati, e quindi ai disoccupati, e quindi ai giovani che sempre meno sono in grado di trovare un posto di lavoro. Ma soprattutto questa politica di austerità europea è gravissima da un punto di vista del fatto che non è efficace, non è efficiente, non sta affrontando i problemi, anzi li sta aggravando drammaticamente. La situazione è dunque drammatica, con pesanti conseguenze sulla disoccupazione, sulla crescita del paese, sulla tassazione. Siamo di fronte a delle riduzioni dei prodotti interno lordo pesantissime. L'aumento della disoccupazione in modo spropositato, basta pensare all'Italia, siamo quasi all'11%. Basta pensare che noi siamo a una riduzione del PIL rispetto all'inizio della crisi del 7-8%. Siamo in un contesto di utilizzo degli ammortizzatori pauroso, che continua da 4 anni in modo ininterrotto. Siamo di fronte ad un aumento della tassazione. Più tassazione, meno spesa sociale, riduzione della spesa pubblica, produce nuova disoccupazione, riduzione dei consumi e nuova recessione. 15 pullman arriveranno a Reggio Emilia da tutta la provincia. È un'iniziativa pubblica, tesa a rendere evidente, chiara, pubblica la protesta nei confronti di questa Europa e nei confronti di questo governo. Un governo Monti che si è presentato dicendo voglio rigore, voglio equità e voglio sviluppo. Alla fine l'unica cosa è il rigore nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, perché l'equità non esiste, perché la crescita non esiste.